Oggi abbiamo celebrato i 30 anni del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fiume Veneto. È stato un momento per accogliere tutti nella nostra sede di protezione civile, i gruppi comunali dei comuni limitrofi, le associazioni, la comunità a cui abbiamo celebrato la messa ed è stato anche il momento per ripercorrere la storia del nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile. È stato il momento per ringraziare tutti i volontari, dal primo coordinatore al coordinatore attuale Emanuele Morassut. È stato il momento per ringraziare le collaborazioni con i Vigili del Fuoco, con la Cinofila Pratense ed è stato il momento soprattutto per celebrare tutti i volontari che in questi anni hanno costruito, mantenuto e reso la protezione civile di Fiume Veneto ciò che è attualmente un gruppo di oltre 60 volontari che si adopera per il prossimo nelle emergenze ma che si allena, si forma, impara, si istruisce tutti i giorni. Allora oggi siamo qui a Fiume Veneto per ringraziare il Gruppo Comunale di Fiume Veneto dei volontari di protezione civile per quello che in 30 anni hanno fatto. E dire grazie è una parola che vale oro quanto pesa, non costa niente ma ha un valore grandissimo. È quello che hanno fatto i volontari di Fiume Veneto in 30 anni. Negli ultimi anni in particolare con le loro 1800 giornate uomo equivalenti ci hanno dato la garanzia di avere ogni giorno qualcuno a disposizione per intervenire, intervenire in tutte le emergenze che abbiamo avute. Quindi grazie a loro, grazie a tutti i volontari. E una richiesta, cercate, invogliate, trovate i giovani, fate in modo che vengano in protezione civile perché in protezione civile si sta bene, si respira un'aria buona. E con quello che voi avete fatto, l'esempio che avete dato come volontari non può che essere foriero di far crescere nuove leve di cui la protezione civile regionale ha sempre più bisogno. Ancora grazie di cuore.